Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale Io sono Magnus Pensavamo di incontrare Joker Invece poi alla fine non abbiamo salvato Non abbiamo incontrato Joker Abbiamo incontrato Capred Maschera nera l'abbiamo perso Quindi diciamo che in pratica pensavamo Di cattuare almeno uno Ma invece poi li abbiamo persi tutti quanti Naturalmente come sono due video come se Un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace Siamo sempre qui su Batman Arkham Origins E in pratica Ci avevano avvelenato, o meglio Capred Ci aveva avvelenato, ma abbiamo trovato l'antidoto Per adesso, vedete, sono abbastanza sciangheato Dobbiamo andare un attimo Da Come si chiama, piccola amnesia, maggiordomo Il nostro maggiordomo Ha detto, vieni al piano terra Alfred, porca miseria Che è successo, non mi ricordavo più il nome di Alfred Resisterò a lungo Senza l'antidoto Devo ritornare Al piano terra Eh, lo so che devi tornare al piano terra Noi, spero sinceramente Eccolo, aia Tossiamo anche La salute è abbastanza cagionivole Ci siamo? Vai Eh, che brutta fine che hai fatto Sì, andiamo avanti Perché in questo momento Non credo che sia la soluzione migliore Aiuto Qualcuno mi è Toiti Capred Toiti La poteva attaccare Non si è riuscita a attaccarla Avresti potuto salvarmi Se solo fossi arrivato prima Che stavi facendo? Ma chi è schettino? Non sei un eroe Un vero eroe Mi avrebbe salvato Noi iniziamo a offendere Ok, vai Certo che però Batman Spesso ha le allucinazioni In qualsiasi gioco Ancora lei Mamma quanto è brutta questa A te non ti salviamo sicuramente Ok Ahia Ah, devo combattere proprio Aspetta Aiaia Che don beccata Che appena non sei tanto forte Perché con tutto che siamo drogati Abbiamo stese tre Anche posizione Non ti piacerà a fatto Ciò che verrà tutto Aia Ok, penso che No, non riesco ancora a combattere In questo momento Ok, sì Ok Ok Ah Ah Ma in miseria Ma quante cavole ce ne stanno? In miseria È andata a vuoto Vediamo se almeno uno la riesco a beccare Ok No Ha venuto abbastanza agile però Aspetta Ok questo dovrebbe essere l'ultimo penso È ancora viva Penso che sia lei poi alla fine Aia Ok Vai va Ancora Ma ne sono Tantissime ne sono Fregata eh No perché non mi hai fatto fare questa Ah Da passavolta un po' prima eh Lo vedo però la posso Ah ok Meno male Non lo potevo vedere così a battone Meno male Mi si stringeva Il mio veleno è ancora nelle patene E lì rimarrà finché avrai vita E non sarà lui Ancora K R Senti ma io Ecco Credi che questo basti a trattenermi Forse no Vorrei vedere Io so dove si trova C'è un incontro Tutti gli assassini saranno lì Una volta liberata Ti dirò dov'è Grazie Ti devo un favore Aspetta Posso dirti dove sono L'hai già fatto Ah pendeglio sarebbe stupido Ti ha dato del pendeglio Batman Hai una segnalazione anonima alla polizia Il loro di cercare nei container dell'acciaieria Significa che hai riuscito a fermare copere? Esatto E adesso andrò a fermare Joker Non credo che sia prudente dopo ciò che è passato Dovrebbe tornare qui per farsi medicare Non ora Alfred I guanti di electrocutioner Emettono un potente segnale elettromagnetico Che posso seguire con il mio scanner E condurrà dritto da Joker Ma prima dovrò uscire dall'acciaieria Ok Usciamo dall'acciaieria da Aspetta Noi qua siamo Abbiamo sfondato Quindi Dei due che da qua si escono Ah abbiamo un potenziamento Aspetta un attimo Scusami Ok Allora Pagate per la torre invisibile Questo poi non sarebbe male Beh che stiamo potenziando Tantissimo Molto di più Questo Ok Multikappo a terra Specifico Multikappo a terra Non sarebbe male Lo facevamo anche in quell'altro Quindi secondo me è la cosa migliore Ok Quindi con X Perfetto Quindi l'abbiamo messo Usciamo Credo che da qua si esca Messa Messa Sì Provando ad andare di qua Vediamo Sento delle persone Per cui Ciao ragazzi Dove cavolo stai? Ah sono andato a prendere la pistola Ma quanto sei carino Ok Usciamo Di là Vai Giustamente quando vedo i nemici Devo distruggere il contenitore Prima di andare Ok Però l'avevi detto prima Spruzza Come al solito Allontaniamoci Che è sempre meglio Vai Alfred Sir Vi sto trasmettendo un profilo chimico Fai una scansione della città E cerca le concentrazioni più elevate del composto Se trovi la fonte Potrò bloccarla Certamente La avviserò Non appena avrò trovato qualcosa Ok Ok Le vedo già in forma comunque Quindi Credo che abbiamo risolto O almeno spero Che sto capendo C'ho capito qua così alzato Vabbè Allora Non ricevo ancora il segnale di electrocutioner Devo salire più in alto Il pilone centrale del pioneer bridge Dovrebbe andare bene Ok Devo andare sul pilone Perfetto Che c'è? Ah ok Devo fare un'altra ricerca forse Ah ok Abbiamo trovato Ci siamo Ora devo seguire il segnale fino alla sua posizione Sì Non di qua però Penso Ok Allora di là mi dice di no Quindi pensavo che dobbiamo andare di là Un po' più verso destra Ecco il segnale Pare che electrocutioner Sia dentro al Gotham Royal Hotel Ah sì Ci dobbiamo fregare Un attimo a questi qua Che vedo che sono veramente tanti Quindi scendiamo Avanti 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 Avevamo fatto una cosa molto intelligente Però Poi non ce l'ha fatto parola Mi togli un attimo a questo Ah ecco qua Non è andato in porto Come voleva si Ok Perfetto A saperlo Mi fregavo Un attimo Ah qui lo dà con lo scudo Ok C'ho il cecchino che mi dà fastidio Dobbiamo essere molto rapidi E veloci Grazie Ecco Se il controattacco A volte funzionasse Eccolo qua Manco funziona Ah almeno Una volta Ok Ma di qua Ah ok E' Highlander questo Allora c'è un cecchino Non so neanche dove sta Sinceramente Sta laggiù Ammazza Sta lontanissimo Ok Ma io penso che noi dobbiamo entrare qua dentro Vero? Sì Sì Andiamo di là Andiamo di là Vai E' qua che dobbiamo entrare Oh quanti punti esperienza La porta sembra questa Bella porta entriamo Eh C'ho un prunito tremendo la gamma Parcheggio hotel Se c'è gente Vuol dire che abbiamo indovinato Se non c'è C'è poca gente Oh li occure Ok Signorino Bruce Sia questa cosa E non vorrei che magari Qua dentro riesca a fare qualche cosa Allora questo è un pannello Quindi lo possiamo anche aprire Incidente Perfetto Perfetto Che c'è? L'ha sbocchiata? Che c'è qua a terra? Ah raccogli Ah era l'enigma Vabbè Fa niente Vabbè Vabbè Il coso ce lo siamo becchiati Ciao ragazzi Sì Sono proprio io No Ok Ciao ragazzi Mi sa che ce ne andiamo di qua Ah E quanta bella gente Che ci sta qua Attenzione a questo Spara Ok Un altro E dovrei portare la combo Ad un buon livello Vai Ah già Questo non muore subito Il nemico mi rimammazzare qui Ok Vediamo se ce la facciamo Oh ma sei sempre tu armato Mamma che palle Ok K O Multiplo Ma non credo Ti dico la verità Per adesso Sembra che Ok No Ok Attenzione qua eh Che se riesco a tenere la combo alta Ecco Che non mi sto zitto A volte è meglio Dai che siamo a 4 Biande No dai Lo stavo dando Al cazzotto Però Ok Ok Non mi sono fidato Del contrattacco Grazie Ok Questo dovrebbe funzionare È morto Sì Ha fatto una brutta mossa Però è morto Ok Adonde vamos Mmm Ah là c'è qualcosa Riusciamo già a disattivarlo così Sì Allora Royal Hotel Royal Hotel Oh che password Si sono applicati tanto proprio Però c'è un po' di corrente Non vorrei che tipo devo distruggerlo Ok Mi sembrava strano Sento altra No no Penso che sia il fuoco Non penso che sia la corrente Allora Questo l'abbiamo disattivato Deve andare in alto Non ho capito Vai Ok Non l'avevo visto qualcosa Qua penso Vero Sì Penso che ci siano dei comandi Vai Mmm Non lo vedo molto solido Sto cancello Passerei abbastanza rapidamente E poi Mi si chiude in testa Vai Poi ti spezziti Ecco Ok Vai di qua vai Sembra la via più Più breve Aspetta che sta salvando Può essere che non riesce Per questo ad aprire No No Dobbiamo per forza Andare di qua Vai Ascensore C'è una fissa Per l'ascensore Chi c'è? Qualcuno la terra Seppellito da soldi Ok Non l'hai mossa La leva Signore Conosce il punto esatto Dell'hotel In cui si trova Joker Non ancora Perché No Pare che ci sia Una camera di sorveglianza Nella hall Potrebbe individuarlo Con le telecamere Ok Ci proverò Allora Qui ci sono esplosivi A sufficienza Per abbattere L'edificio Mi domando Quali altre sorprese Troverò Aia Allora Stalla Giù Ok Allora Sinceramente Prima che mi frego Ok Ci siamo un attimo Fregati a questo Se riuscissi A capire Dove sta Ah Sta là Guardalo Guardalo Allora Dobbiamo stare attenti Perché se riesco O meglio Se abbiamo la fortuna Che sia solo Fiamma il cavallo Ok Sta su Sta su Attenzione che qua Adesso non riesco più A fare niente Aspetta Facciamo così Io qua qualcosa Lo metterei Perché magari Se siamo fortunati Qualcuno ci passa E ci muore Visto che qua C'è un bel cadavere Ok Ok Bravi Bravi ragazzi Venite Venite Tutti quanti Tutti quanti Venite Solo uno No Grande E andiamo Questo è stato Spettacolare Questo Che peccato Che peccato eh Che peccato Perché Poteva essere Una grande Una grande morte Allora Non me lo fai fare Eh Se questo Se ne viene di qua Lo possiamo fregare Tranquillamente Allora Preferisco questo Invertito Vai Ciao Che fai Non ti sposti Allora Questo L'abbiamo Appeso Ne sono rimasti Praticamente Tre Dai raga Però fate Datemi Una mossa Ok Vada Vada Non lascio Solo Vada Bravi Ragazzi Bravi Quando fate Così Siete Grandi Allora Ok Non ti muovere E Zuppate Ok Vediamo se Questo Ce lo possiamo fregare In caduta Libera Ok Allora Vediamo Di capire Ok Camera Di sorveglianza Camera Di sorveglianza Non ho chiaro Ok Forse è questa Dimmi di sì Sì C'è anche il coso Dallo chiare Quindi penso pure sì La musica cambia E Occhi Ok Occhio Spia Amici Assassini Benvenuti alla prima valutazione trimestrale di produttività Come vedete qui Le morti di Batman Sono ben al di sotto delle proiezioni La salute è sempre È una cosa A cui noi dobbiamo rimediare subito E per noi Intendo voi Capito mister Cutioner Chi Diavolo Sei tu Sono quello con i soldi E con la pistola Perciò Quando vi assumo Per uccidere Batman Chiudete il becco E uccidete Batman Nient'altro Di cui vorreste discutere Proprio come immaginavo Se Credo che il piano sia quello Batman Questo dolce È fantastico Chi ne vuole un pezzo Bene La seduta è tolta Andatela fuori E uccidete Batman Oh Che fai Datti una mossa ragazzone No Ti sta venendo a cercare E quando arriverà Io lo farò fuori per bene Perciò tu Aspetti Scommento che sarà interessante Batman io non so l'idea Questo è grosso Dovrebbe portarmi al soffitto Facendomi uscire da qui Forse i guanti di electrocutioner Possono ridare potenza Alla piattaforma Guanti folgoranti Oh E questa è una buona cosa Batman Vedo che i pugni Sono anche cresciuti Quindi Sono un pochettino Più Ottimista Tra l'altro Abbiamo anche un nuovo potenziamento Che è quello che sicuramente andremo a fare Nel prossimo episodio Comunque Pare che abbiamo trovato Joker Chissà se lo affronteremo E chissà naturalmente Si scapperà Nel prossimo episodio Naturalmente questo è un nuovo video Come se mettete un like Un bel commento Un bel mi piace Mamma quanta roba che stiamo sblocchiato Ci vediamo nel prossimo video Bye Ciao Grazie a tutti.